Eleonora Perché è da un po' che comunque cerchiamo di riuscire ad avere qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo tutti i giorni magari riuscire a ritornare a quello che era il mio sogno una volta e magari riuscire in questo momento a sistemare cose anche finanziarie che comunque non riusciamo a sostenere adesso È un corso molto pratico, sono tante informazioni Sicuramente alle persone comunque a cui tengo, però a tutti, tranquillamente a tutti Una sola apertura mentale, sicurezza, è stupendo Grazie a tutti